Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano due chilometri di coda per il ripristino di un incidente tra Monte San Savino e Chiusi. Per una manifestazione, possibili disagi in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. Sulla 12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova, in uscita provenendo da Genova. Spostandoci sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Sul raccordo siano a Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Valdipesa e Firenze in Pruneta, in entrambe le direzioni. A Firenze, code per un incidente sul viadotto del Ponte all'Indiano in direzione Peretola. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!